Alla 17esima edizione del forum ICT Security siamo con Michelangelo Berti, Marketing Analyst per Partec. Benvenuto. Grazie. Nel suo intervento farà riferimento al nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati. Perché è così importante? Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati nasce dopo un'idea legislativa durato più di 4 anni e che ha compreso circa 4.000 emendamenti. Di fatto va a sostituire l'attuale direttiva del 1995. Il principale limite di questa direttiva riguardava il recepimento piuttosto libero da parte dei singoli stati membri dell'Unione Europea. Questo ha comportato di fatto una discontinuità e una poca uniformità a livello europeo nella gestione dei dati personali. L'Italia da questo punto di vista era all'avanguardia perché aveva l'impianto normativo più robusto tra tutti e ad esempio imponeva una serie di vincoli tecnologici agli operatori telefonici per andare a proteggere i dati di traffico dei propri abbonati. È in questo contesto che l'Unione Europea ha capito che era necessario unificare la normativa di riferimento. Attraverso un regolamento che quindi non richiedesse il recepimento da parte dei singoli stati ma venisse adottato automaticamente e che andasse a uniformare, a definire i criteri di conformità, le modalità di controllo e soprattutto le sanzioni da applicare a fronte della violazione di una di queste regole. Chi sono allora i destinatari del nuovo regolamento? Sono soggetti al nuovo regolamento tutte le imprese private e gli enti pubblici che trattano dati classificati di varia natura, ad esempio sensibili, sanitari, biometrici, giudiziari e così via. Pertanto quello che possiamo dire è che, tolto il panificio sotto casa, quasi tutte le aziende sono soggette a questo tipo di regolamento. Questo comporta una cosa che per loro natura molte di queste aziende non sono attrezzate, non hanno le competenze per ridigere dei complicati piani di sicurezza e ancora di più per andare ad applicare delle misure tecniche per rispettare tali requisiti. È in questo scenario che un'azienda come Partec, forte dei 15 anni di competenze in ambito IT Security, offre i propri servizi di consulenza tecnica e organizzativa. Ad oggi già supportiamo diverse aziende private e alcuni enti pubblici nel soddisfacimento dei requisiti di privacy compliance della normativa vigente e li aiutiamo anche attraverso l'integrazione delle nostre tecnologie e dei nostri partner come Sophos e Balabit. Come mai viene dato tanto peso alle tecnologie di cifratura? La risposta può sembrare estremamente banale ma di fatto l'unico modo per rendere un dato veramente privato è renderlo leggibile soltanto ai diretti interessati. Questo non si traduce banalmente nella configurazione di access list su delle cartelle condivise o su dei repositori aziendali. Questo perché una volta che abbiamo ottenuto l'accesso a dei file non sappiamo che tipo di percorso andranno a fare questi file, come verranno condivisi, magari in maniera impropria attraverso una mailbox personale o attraverso servizi di cloud storage come Dropbox e Google Drive. Peggio ancora, immaginiamo quando questi file vengono copiati su pendrive, notebook o smartphone che vengono quotidianamente persi o rubati. Nel caso migliore questi dati andranno semplicemente persi. Chi troverà la nostra pendrive la formatterà e la utilizzerà per scopi personali. Nel caso peggiore questi dati potrebbero diventare pubblici, andando quindi a creare delle conseguenze di varia natura, danni finanziari diretti o indiretti, danni all'immagine, danni alla reputazione. E peggio ancora, eventuali furti di identità verso gli diretti interessati, quindi coloro che erano i legittimi proprietari del dato. È per questo che l'unico modo per rendere veramente segreto, se così si può dire, un dato, è applicare delle tecnologie di cifratura. Perché un dato rimane cifrato a prescindere dalla sua locazione. Per questo è necessario quindi usare delle suite di cifratura, che consentono anche di gestire l'intero ciclo di vita delle chiavi usate per cifrare i dati. Se no, il problema si sposta sulla gestione. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.